E' diverso in ognuno. Ho letto che l'arpa nei sogni rappresenta l'organo sessuale femminile. Per l'uomo indica eccitabilità e, se suona lo strumento, simboleggia la prossima realizzazione delle sue intenzioni. Per la donna indica il desiderio di appagamento e di dolcezza. Se si sogna di vedere l'arpa con le corde spezzate, è un indizio di paura e di fragilità. E' vero? Commento I sogni sono un'emanazione dell'inconscio che è diverso in ognuno. Il sognatore è perciò l'unico interprete dei suoi sogni e si illude. Se ne cerca la spiegazione all'esterno di se stesso.